Ciao, sono ShooterHatesYou e questo è Breaking Italy, lo show da lunedì al venerdì, nel quale ti parlo di cosa succede nel mondo e già vi preannuncio che la prima notizia tratta di orgasmi. Innanzitutto un benvenuto ai nuovi iscritti, se ancora non avete capito come funziona è semplice, io dico le notizie, poi le commento e voi vi incazzate nei commenti qua sotto. Prima notizia, secondo uno studio condotto dall'americanissima Columbia University il 50% delle donne finge l'orgasmo. L'indagine è stata svolta su un campione di 453 donne dai 18 ai 46 anni che vivevano in un rapporto di almeno 6 mesi, dopo che passa quella fase iniziale del A MIA DIO! E la metà di queste, anzi poco più, il 54%, capita che finga l'orgasmo, qual è il motivo principale? La sospetta infedeltà. La maggioranza delle donne che infatti ha ammesso di essere una provettatrice lo fa principalmente perché teme l'infedeltà del partner e in qualche modo cerca di tenerlo vicino a sé, cercando di gratificare l'uomo durante le fasi del... Quindi, adesso lo sapete, con buona probabilità la vostra fidanzata ha finto un orgasmo, anche se probabilmente sarà difficile che ve lo racconti o che vi dica chi stava pensando nel frattempo, se a un amico o meglio a un'amica o meglio ancora magari a uno youtuber che le piace e che magari li avete fatto vedere voi. Ok, dopo che vi ho fatto incazzare passiamo alla prossima notizia. Questa veloce notizia è fantastica per capire quanto le cose possano sempre peggiorare. In Russia Vladimir Putin, ex spia del KGB, per due volte presidente, dopo essere rimasto all'interno di giochi politici pur non mantenendo la carica di presidente, si ricandida di nuovo alle elezioni presidenziali per il 2012. E molti dicono, ah ma com'è possibile che i russi votino di nuovo Putin, che è una persona torbida, ha il passato torbido, e in generale si chiedono come sia possibile che in un paese democratico Putin sia di nuovo in corsa alle elezioni, visto che comunque si sono tenute le primarie del partito, peraltro ha scrutinio segreto, quindi vuol dire che nessuno ha visto lo scrutinio, hanno semplicemente detto, beh questo è lo scrutinio, l'abbiamo fatto, lalà. E su 614 voti, 614 sono andati a favore di Putin. Quindi una persona decisamente popolare, se non fosse altro che, no. Nel senso che per tutte le persone che si lamentano del fatto che allora i russi vogliono la stessa persona, sono peggio degli italiani come Berlusconi, no, ricordiamoci che in Russia le cose non vanno esattamente come qui e che gli oppositori politici sono pochi e o spariscono misteriosamente. Vedi il caso ad esempio di Anna Politkovskaya, se non sapete chi è, link nella descrizione. Quindi, essendo un paese non abituato nemmeno a fare le battute da bar sul proprio premier o appunto presidente, sono perlomeno interessanti le parole dell'amico Putin che durante un discorso proprio ieri ammonisce delle non meglio specificate forze internazionali che starebbero complottando per non farlo salire al potere. E, quando dico forze non meglio precisate intendo gli stati occidentali e le associazioni per i diritti umani che, guarda caso, in Russia non sono viste così di buon occhio chissà perché. Morale della favola, le cose possono sempre andare peggio di come già sono ed è un motivo per non disinteressarsi alla politica. E andiamo avanti. Oggi parliamo molto di esteri perché adesso andiamo in Giappone. Il Giappone, popolo strano che noi italiani fatichiamo largamente a comprendere, uno dei punti in comune tra il loro paese e il nostro è la capacità di credere sempre a quel che viene detto da questo giornalista o quel presentatore all'interno della televisione. Ora vi ricorderete sicuramente della tragedia nucleare avvenuta a Fukushima pochi mesi fa, che, nonostante in Italia si sia detto che i giapponesi sono stoici, non provano paura, hanno i sentimenti, no no no, ha causato ovviamente il panico generale nel paese, perché cazzo, scopia la centrale. Omg. Quindi la prima cosa che il governo ha fatto è stata minimizzare il problema sia agli occhi internazionali, perché comunque era una cosa importante, sia, cosa più importante, agli occhi dell'opinione pubblica giapponese. Quindi l'allora premier Naoto Kan ha detto qualcosa come, tranquilli, tutta roba buona, si può mangiare, tutto sano, ho fatto due, ti lascio. Salvo che poi si è scoperto che stava dicendo una marea di minchiate e quando questa cosa è saltata fuori, lo spirito dell'orgoglio giapponese è saltato fuori e si è dimesso. Fosse capitato da noi questa persona avrebbe fatto una scalata ai vertici della società. L'operazione rassicurazione però è stata fatta anche da un noto presentatore giapponese, che si chiama Otsuka Norikatsu e questa persona per tranquillizzare la gente proprio ha mangiato in diretta televisiva delle verdure raccolte da Fukushima e adesso questa persona ha la leucemia, facendo fallire di fatto il mito del è tutto a posto, è tutto ok. La cosa tragica e interessante allo stesso tempo è che molti giapponesi, tranquillizzati dalle immagini della tv, hanno continuato a comprare riso, verdure, cibi che venivano appunto dalle zone colpite, rischiando appunto anche loro, e non si sa in quanti, di contrarre queste malattie, come appunto la leucemia linfatica che ha colpito questa persona e che è una malattia molto grave, dalla quale c'è il 30-40% di possibilità di sopravvivere. Quindi adesso sapete anche questo, nel momento nel quale succederà un disastro, il governo mentirà e farà bene in un certo senso. Certo, non farà bene a voi, ma farà bene in generale. E' più o meno come quando gli americani, durante la guerra fredda nella quale si parlava delle possibili ripercussioni di un attacco nucleare sovietico, si diceva ai cittadini che nel caso di crisi nucleare si potevano semplicemente mettere sotto al tavolo, con una coperta sulla schiena, non sto scherzando, e le radiazioni sarebbero passate oltre loro. Questo perché? Perché sicuramente innanzitutto non c'erano i mezzi di informazione che ci sono adesso, e quindi per evitare che la gente desse completamente di matto si dicevano queste cose, che significavano semplicemente statevene a morire bravi bravi in casa vostra. BAM! Sapete anche questo adesso. Lasciatemi qui sotto nei commenti un'idea su quale sia la vostra posizione in merito. Billy Allen, la famosa cantante inglese che aveva già subito due interruzioni naturali di gravidanza, darà finalmente luce a un bebè sulla quale culla non si sa ancora se ci sarà una coccarda rosa o una coccarda blu. Indovinate invece di che colore era la coccarda che il signor Fegacazzi e la moglie hanno messo sulla culla del loro primo genito? Appunto, nessuna. Ma questa gentaglia è tutto quello che voglio aderirvi per oggi. Se il video ti è piaciuto ricordati di mettere MI PIACE, di mettere tra i preferiti, di condividerlo su Facebook, Twitter, Google+, dove vuoi, o anche tutti questi assieme, perché no? Oggi abbiamo un'alfiere della gentaglia, così i membri della gentaglia femminili o gay possono essere più contenti. Comunque ragazzi e ragazze, non vorrei sbagliarmi ma credo che non ci siano più foto per la prossima puntata di Breaking Italy, quindi mi aspetto alle vostre foto velocissime a breakingitaly e gmail.com. Prima di chiudere volevo ringraziare gli Akamat, che sono degli altri youtuber che la maggior parte di voi sicuramente conoscerà, che hanno lanciato una nuova serie di video con un format molto simile a quello di Breaking Italy ma con dei contenuti diversi e che hanno un po' sponsorizzato lo show. Quindi fate la stessa cosa. Vi lascio il link qui sul mio minimac, come al solito. Se non li conoscete date un'occhiata, vedete se vi piace. Comunque, come al solito, io sono ShooterHateYou, tu hai guidato Breaking Italy, ci vediamo domani.